Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo Un uomo lo trova e lo nasconde Poi va pieno di gioia Vende tutti i suoi averi e compra quel campo Il regno dei cieli è simile anche a un mercante Che va in cerca di perle preziosi Trovata una perla di grande valore va Vende tutti i suoi averi e la compra Siete carissimi, oggi la parola è una bellissima notizia per tutti noi Siamo la perla preziosissima per la quale Gesù Cristo ha dato la sua adicazione Allora guardati allo specchio per favore Anche se la prova costume è andata malissimo Anche se si trovi con cellulite Anche se invece è una tartaruga Ce l'hai a rovescio Invece la tartaruga ce l'hai a rovescio Come dicono vari comici Anche se Se non ti piace nulla di te Se ti disprensi Se pensi male di te E quindi pensi male degli altri Perché pensi male di Dio Che ti ha fatto male Non è così Tu sei la perla preziosa per la quale Gesù Cristo Il figlio di Dio Ha dato tutto se stesso Con gioia Pieno di gioia Ha dato via tutto Perché tu sei il suo tesoro E dice lui stesso Laddove il tuo tesoro Là c'è il tuo cuore Allora il cuore di Cristo sta in te Oggi Così come sei Così come ti sei svegliato Oggi il cuore di Cristo è in te C'è notizia più grande C'è notizia più bella Che cosa Che tuo figlio Ha fatto lavoro Che gli esami Hanno dato l'esito negativo Non hai quel male che pensavi di avere Che cosa No La notizia più grande È che tu sei la perla preziosa Che per comprarla Cristo ha dato la sua vita E ora sei le sue mani Ora sei la sua perla Oggi sei la sua perla Oggi sei il suo tesoro Vero Coraggio fratelli Questa parola ci aiuta a comprendere Il combattimento di cui parlavamo ieri Ci aiuta a comprendere la nostra vita E perché Probabilmente Siamo ancora così Attratti dalle cose della carne Perché ancora Dubitiamo Perché ancora non ci buttiamo nel Signore Perché ancora Non obbediamo sinceramente la sua parola Perché In fondo non lottiamo Non combattiamo Non passiamo Non respiriamo Con questa preghiera Che dicevo ieri Signore Gesù Cristo Figlio di Dio Abbi pietà di me Che sono un peccatore Perché questa non è Una preghiera che muove Ogni istante della nostra vita Che informa ogni istante della nostra vita Che errora ogni istante della nostra vita Perché non avendo questa esperienza Di essere la perla di Listo E' inutile Non c'è gioia Non c'è Non c'è nulla E' una relazione fredda Una relazione automatica Una relazione imposta Probabilmente Quella con lui Allora Ascoltate bene La perla preziosa Che incontra questo uomo Che dice Il regno di Dio Il regno di Dio E' simile a questo Cioè Quello che è Che costituisce il regno Quello che E' l'essenza del regno E' questo incontro Allora Che cosa incontra questo uomo Che sei tu e tesoro Che cosa incontra Quest'altro uomo Che scava e trova il tesoro Che cosa incontra Incontra Che è la perla Per quella perla che incontra Che lui è il tesoro Per quel tesoro che incontra Cioè Quello che incontra Cristo E' il suo tesoro Perché lui E' il tesoro di Cristo Perché scopre di essere Il tesoro di Cristo Cioè scopre di essere amato In maniera Unica Irripetibile Incommensurabile Imparagonabile Questa perla di grande valore Che non si può paragonare Che non si può Neanche quantificare il valore E questo E' Cristo Che ti ama Come la sua perla Unica e preziosa Quando si dà questo Questo incontro Usa questa scintilla Allora C'è questo tempo Per cui lasci lì E vai Vedi tutto C'è questo tempo Per tendere Per abbandonare Per tagliare Per convertirci Questo tempo E questo è la perla E questo è il tesoro Essere amati così Come una perla Come un tesoro In questo senso Per Dio L'unico Sua terra Che ha questa esperienza Profonda Che si chiama Perdono dei peccati Che si chiama Rinnovazione Una rigenerazione Totale Di se stessi Vende tutto Con gioia Perché? Perché tutto E niente Perché tutto Quello che potete E niente Quindi fa pulizia Altro che Si alleggerisce Fa pulizia Fa semplifica La sua vita Che ha tolato Cristo Per questo E' inutile Imporre nulla Nei figli Nel marito Nella moglie Nel noi stessi O si dà questo incontro Non si dà Dove si dà questo incontro? Nella Chiesa Perché è l'unico posto Dove Non è il sentimento Non è l'immaginazione Ma è la terra buona C'è quella della realtà Dove veramente Cristo si dà Nei sacramenti Nei una predicazione Autorevole Della Chiesa Della sua madre Allora coraggio Perché questa è una grande notizia Se più grande che ci sia Sei la perla preziosa Di Cristo Io ti invito A scriverti Sello specchio Scrivilo E sono le mie firme Con il rossetto Sono la perla preziosa Di Cristo Di valore Incommensurato Lo vedo ogni mattina Quando ti guardi le rughe Quando pensi a quello Che dovrai fare A quello che hai fatto Quando pensi a tuo marito Quando pensi a tua moglie Quando pensi Oddio Non so Non mi dici tesoro Ma che tesoro di che? Infatti Tesoro di che? Tu sei tesoro di Cristo In Lui In Lui Ammirai il tuo marito Ammirai tua moglie Ammirai E ti sei sanzi Perché sei felice Perché hai fatto Quello che dà Valore infinito Alla tua vita Come dicevamo La prima lettura di oggi La messa di oggi Molto bella Di Ceremia Dice così Dice Se ritornerai Io ti farò ritornare E starai Alla mia presenza Se saprai Distinguere Ciò che è prezioso Da ciò che è vile Ripeto Se saprai Distinguere Ciò che è prezioso Da ciò che è vile Sarai come La mia bocca Essi devono tornare a te Non tu a loro E di fronte a questo popolo Ti renderò come un muro durissimo Di bronzo Cioè Sarai libero Sarai libero Tu marito Tua moglie Si attaccherà a te Perché si attaccherà a Cristo Perché vedrà In te Il tesoro vero Che è Cristo Che è l'amore di Cristo Non a te Che sei un vaso di Greta Un cellulito Senza cellulite Simpatica o antipatica Che sia Simpatico o antipatica Che sia Guarda altaluga La tritta rovesciata Che sia Non importa nulla È Cristo in te Allora Se saprai distinguere Ciò che è prezioso Da ciò che è vile Torniranno tutti a te Cioè Torniranno tutti a Cristo in te Il matrimonio sarà meraviglioso Anche se oggi Fanno La reazione con il tuo padre Con il tuo padre Con i tuoi figli Con quel fratello Con quel collega Vedrai meraviglia Tu Sei La perla Prenziosa Di Cristo Sei il suo tesoro Finito Incommensurabile Tu Vari Infinitamente Vari Ogni goccia Del sangue Di Cristo Versato per te Ogni Tutto Tutto Se stesso Versato Offerto per te Non lo dimenticare mai Fanno le memorie Ogni giorno E chiedi al Signore Chiediamo al Signore Di sperimentarlo Ogni giorno Buona giornata Theo Mi Sì Grazie a tutti.